Laudato, sì, signore, per frate sole, sola, luna. Fra te vento, il cielo e le stelle, verso l'acqua, fra te focù. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato, sì, signore, per la terra e le tue creature. Laudato sì, Signore, per la terra e le peccature Laudato sì, Signore, per la terra e le peccature Salve amico, sono contento che tu stia seguendo il mio canale fino a questo punto dove potrai notare che stiamo concludendo con la celebrazione eucaristica dinanzi alla cappella della Trinità di Campazzano, in segni una nostra giornata ecologica e meditativa organizzata in particolare dal Circolo Laudato sì della Chiesa di San Bruno di Colleferro Con questa iniziativa si è voluto rispondere all'appello di Papa Francesco di pregare e prendersi cura del creato in questo tempo del creato che va dal 1 settembre al 4 ottobre Come cristiani dobbiamo essere consapevoli che tutto è dono del creatore e che noi siamo un tutt'uno e che dobbiamo crescere nella responsabilità verso la nostra madre terra Sicuro che il video sia stato di vostro gradimento vi invito a sottoscrivere la vostra adesione al movimento Laudato sì di cui potete prendere informazioni su Google o nella descrizione che troverete in basso sul mio canale Grazie 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 Cari amici Dopo gli orizzonti e le immagini del video di oggi dico grazie a tutti voi che seguite il mio canale YouTube Augusto Fagnani Il vostro interesse e il vostro supporto sono la linfa vitale di questo progetto e così vi invito ad iscrivervi e a lasciare un like o un commento per condividere le vostre opinioni i vostri suggerimenti insieme possiamo rendere questo cammino ancora più speciale perciò vi dico grazie Laudato sì